Negli uffici dell'automobile di Cagliari tuttora esistono delle documentazioni importanti che io mi auguro siano state sistemate bene e soprattutto c'è un qualcosa che mi sta molto a cuore ed è un vecchio drappo, bandiera, drappo rosso e blu con al centro il simbolo dell'automobile di Cagliari e che era il drappo che a suo tempo, e qui torniamo al tuo discorso di essere stati come capoluogo di regione anche importantissimi e che era il drappo che fu posto sulla Bara quando morì il grande campione cagliaritano Gigi Olivari e nel funerale che si fece nel 1956 esattamente fu posto in evidenza questo drappo, molto bello, io mi auguro che sia conservato, non lo so, ma ho voluto fare questo inciso per ricordare quante belle cose ci possono essere e che non devono essere disperse, ecco. Quel drappo io l'ho fatto incorniciare ed è dietro la scrivania del Presidente a Cagliari, perché ho detto questo è una bandiera, un vecchio drappo, sì ma bandiera vecchia onore di Capitano, io questo lo metto qui, questo è il simbolo, questo è il segno, questo è il logo dell'automobile club di Cagliari, nelle carte ufficiali ho sempre detto, l'automobile club di Cagliari deve scriversi, deve presentarsi con questo logo, a fianco se vogliamo mettiamoci anche Automobile Club d'Italia, noi siamo federati ma abbiamo una nostra autonomia, è sempre stata una battaglia. Se tu vai oggi nella stanza del Presidente, trovi dietro la scrivania questo bello drappo, con il simbolo di Cagliari e il logo della città di Cagliari, infatti, quello storico del Comune. Quello storico, tant'è che chiesi a Emilio Floris, ho detto senti, noi abbiamo questo, ma se io lo uso per metterlo nella nostra carta stampata, siccome sto usando il logo di Cagliari città, non è che mi fai obiezione, ma per carità di Dio, non avrebbe potuto farmene perché quello, se non sbaglio, è del 26 o giù di lì. Senti Giorgio, ritornando, hai fatto il nome di una nuova presidenza o dell'attuale Presidente, adesso io questo, poi approfondisci tu il discorso, l'amarezza o comunque la sensazione non piacevolissima è quella che dopo 17 anni, un tuo apporto, e io ripeto, costruttivo, poi per conflittualità di vario genere, ci ritroviamo all'Aci di Cagliari con un Presidente, vorrei da te sapere o conoscere, come è possibile, amici miei, siamo sempre con i problemi della nostra cara e benedetta isola, facciamo di tutto per crearci difficoltà e i risultati sono poi quelli di farci male a noi stessi. Avevamo un ottimo Presidente, adesso non c'è più, ne abbiamo un altro, Giorgio raccontaci un po' questa storia. Sì, io devo dire questo, ho avuto parecchi problemi familiari, problemi di salute io, mia moglie, sai poi a una certa età o trovi dei collaboratori validi e allora tu puoi reggere la regia o se devi muoverti con me, nel mio carattere purtroppo muoverti in prima persona con tutti questi altri problemi e quindi a settembre, verso agosto, settembre dell'anno scorso, io parlando con il direttore, una persona per carità di Dio che sa fare bene il direttore, e dissi anche, ha detto io non mi ricandido, abbiamo le elezioni prossimo anno, non mi ricandido, sono stanco, tutt'al più potrei anche parlare con chi verrà eletto di una presidenza onoraria per consentirmi di muovermi nell'interesse dell'ACI, attivando le amicizie, le conoscenze, eccetera, eccetera. Basta, dopodiché veni a sapere che c'era invece un'altra aggregazione, Cordata, un'altra cordata, un'altra cordata non ben identificata, però poi sai, andando avanti, poi il mio spirito di sardo mi ha dato un po' fastidio, che dico, noi che abbiamo sempre parlato contro i colonizzatori della Sardegna, possibile che a Cagliari si accetti una intromissione, una calata non richiesta, se noi andiamo alla storia dei comuni d'Italia, Firenze contro Siena, eccetera, e chiamavano il generale, il maresciallo, il comandante di turno per salvarli, quindi c'erano sempre queste chiamate dall'esterno per portare avanti le proprie ragioni. Io ho detto, noi non abbiamo bisogno di questo. In una riunione dissi anche, guardate, se c'è qualcuno che vuole partecipare a queste responsabilità, perché sono responsabilità, perché andare a chiedere in banca che un fido sulla parola per poter finanziare una manifestazione, io ti cito un esempio, l'ultima iglesia Sant'Angelo che non si è tenuta, non perché, ma perché i piloti a Tula e a Oristano, non mi ricordo da dove, a Mores anche, avevano detto, noi non ci presentiamo, noi non rinnoviamo il senso di contestazione verso l'Axai nazionale, perché questo, questo e quest'altro. Se non fanno le licenze, tu senza licenze cosa fai? Organizzi? Ma tu ti sei anche responsabilizzato nell'assumerti un incarico dall'Axai, cioè hai messo la faccia. Io ci ho messo la faccia e sono andato lì a portare due cose, due cose, una era questa della discussione delle assicurazioni che gravano molti, sono un pezzo non indifferente, per questo Chico, che io ho sempre ritenuto Chico Tornatore, che ho sempre ritenuto l'organizzatore, per eccellenza, ecco, io non dico un organizzatore, l'organizzatore, perché l'iglesia Sant'Angelo ha campionato italiano, l'ha portata a lui, io poi ho seguito quando lui insegno di protesta, io gli ho detto Chico stai facendo male, non si protesta così, io non lo voglio sentire, e dopodiché l'ha lasciata a Lace e io l'ho portata avanti per due anni. Ma questo discorso delle assicurazioni che avevamo preso non indifferente, io l'ho fatto iscrivere all'ordine del giorno, tant'è che sono stato il primo ad essere stato nominato in questa commissione, gruppo di lavoro speciale per questo, abbiamo lavorato la volta, poi hanno insabbiato tutto, e lì probabilmente ha ragione Chico, ci sono interessi esterni. E lo dico, è la prima volta che un presidente dell'Automobile Club di Cagliari fa parte del Consiglio Sportivo Nazionale, in quella sede io dissi queste cose, così come mi mossi per il calendario, perché non era possibile che noi venissimo sempre in coda tutti quanti.